Exoraptics, se anche tu sei a ricerca di un crossover adatto a lunghi tragitti ma anche agile in città, questo è quello che fa il caso tuo. Abbiamo qui una DS3 Crossback Full Electric. Troviamo subito molto particolare la mascherina parte centrale del veicolo con questa griglia a rombi, motivo che poi ritroveremo molto spesso in dettaglio all'interno dell'auto. Al di sotto troviamo i sensori di parcheggio anteriori, qui fanaleria Full LED che la ritroviamo poi nella dicitura proprio all'interno dei fari. Troviamo poi cerchi in lega da raggio da 17, questa vettura ha una lunghezza di 4,17 m per una larga di 1,79 m, parte posteriore del veicolo. Troviamo la dicitura del Full Electric, al di sotto poi troviamo la retrocamera e i sensori di parcheggio posteriori. Ma saliamo a bordo. Eccoci qui, postazione di guida. Troviamo subito molto comfort, una bella visuale. Questi sedili con questa trama appunto che riprende i rombi, rombi che troviamo anche nella parte centrale del veicolo e qui dove troviamo i tasti per la regolazione dei cristalli. Abbiamo qui un volante in pelle a tre razze con il logo DS cromato al centro, tasti sia a destra che a sinistra per la gestione delle chiamate e del volume, il touchpad per la gestione di tutto l'infotainment, al di sotto tasti per la gestione del clima, cambio automatico, freno di stazionamento elettronico e qui al di sotto troviamo il tasto per lo start and stop. Questa vettura è stata immatricolata nel 2020, ha percorso circa 48.000 km. Che aspetti? Vieni a trovarci sul nostro sito ratix.com Grazie a tutti.